buongiorno continuo ancora il dissing tra ieri dall'area lacrima official con i botte risposta ed è questo che adesso ci vediamo a voi filmato amici buongiorno a tutti mi sono svegliato ora ma io ieri poi mi sono dimenticato volevo dire a lacrimuccia come cazzo si fa a chiamare come scemo ma io posso parlare sui dissing con uno che mi ha detto che mi manda nel dimenticatoglio dimenticatoglio ma andate a studiare ho fatto 11 volte prima che è morta la maestra ha studiato spallanzati se vuoi parlare con me impari dei primi italiano dai mori vaffanculo va a dormire bello mio te saluto ciao ciao stamme bene continui a fare il mio nome continui a fare il mio nome ricordati che questa mentalità ce l'ho solo io e megregor io e megregor mentalità di megregor perseveranza di kabib e forza di meweather io ti dico solo una cosa l'ultima cosa non andare mai contro il leone mai contro il leone ti faccio andare nel dimenticatoglio pezzo di merda tutto non so io che faccio il tuo nome perché l'hai fatto tu ieri il mio nome io ti ho risposto perché io fino a ieri non sapevo proprio chi cazzo eri punto secondo ho visto che hai fatto un corsa accelerato di italiano hai detto dimenticatoglio giusto ma sono contenta hai studiato stanotte quindi se ti piede una boccetta di migna se vattene affanculo a dormire dai